Buonasera amici, per iniziare questo video mi raccomando se ti fate la Juventus è obbligatorio che vi iscriviate al mio canale YouTube, mettete like che sono sempre molto preziosi e danno sostenibilità al canale, il tutto qualora voleste, cliccando sulla campanella per rimanere aggiornati sui miei movimenti in questa piattaforma. Mancano poche ore ed entreremo nel vivo, quindi al fischio d'inizio, di Inter-Juventus, un derby d'Italia credo molto importante, considerando poi come le rispettive squadre stiano cercando di comprendere a che punto siano nel proprio cammino, con l'Inter che mai come in questa stagione è chiamata a vincere lo scudetto per scongiurare un epilogo che altrimenti sarebbe fallimentare, considerando gli investimenti effettuati, considerando la portata del tecnico nell'azzurro che ben conosciamo, Antonio Conte. Quindi l'Inter, che nella passata stagione ha perso entrambi gli scontri diretti contro la Juve, questa volta è chiamata ad alzare l'asticella, cercando anche di sfruttare le difficoltà di una Juventus che si presenta a Milano senza buona parte la difesa, senza il suo migliore elemento dell'ICT, fermato dal Covid. Stessa sorte toccata poi purtroppo anche, anzi precedentemente, all'olandese ad Alexandre Quadrado, non sono arrivate comunicazioni dalla Juventus in tal senso e quindi a ragione di logica significa che tutti e tre sono ancora purtroppo positivi al coronavirus. E' una Juve che dovrà fare meno anche di Dybala, che lo rivedremo a febbraio. Per il resto, e qui veniamo al assunto un pochettino anche al cuore di questo video, non credo che ci saranno grosse sorprese da parte di Pirlo. Anche chiacchierando con qualche fonte qua e là, diciamo che ieri erano tutti un po' abbottonati perché, è chiaro che, dal punto di vista tattico, va preparata una partita certosina sui punti di forza dell'Inter, che non si limita a una da chimica in una forma straripante ed è diventato sulla fascia destra un'autentica fonte di gioco. Ma ci sono movimenti senza palla da studiare minuziosamente, un certo tipo di pressione a fare a centrocampo, per fare in modo che poi non si scatenino là davanti l'autare Lukaku, che è una bellissima coppia, molto complementare. Quindi, venendo un pochettino al dunque, è una Juventus che scenderà in campo col suo canonico 4-4-2, scesa in tre pali. Tutte le strade a destra portano a Danilo, tutte le strade a sinistra portano a Frabotta, sebbene ci sia stata anche nelle ultime ore una tentazione, chiamiamola così, Bernardeschi, però credo che anche in virtù di quanto proposto recentemente dal laterale romano in partite anche importanti, come San Siro contro il Milan, come nella sfida dell'Olimpico contro la Lazio, Pirlo non si impressiona dei mismatch, non si impressiona dei nomi contro, non si impressiona anche magari del poco curriculum del suo ragazzo, va avanti per la sua strada e quindi credo che ha ragione di logica. Anche per le scalate, la geometria variabile di questa Juventus, a lui serva un mancino a tutta fascia, soprattutto per quando Ramsey tende a centrarsi, è chiaro che poi ci sono gli enigmi legati alla vehemenza atletica e tecnica di Achimi, però Pirlo prepara, sì, le partite studiando anche le caratteristiche degli avversari, ma poi non vuole snaturare un'identità che sta cercando di dare ai bianconeri. Quindi la difesa dovrebbe essere rappresentata, come detto, da Danilo, Bonucci, Chiellini e Frabotta. A centrocampo, come abbiamo detto ieri alla vigilia, il grosso dubbio era legato a questo McKennie, partire dall'inizio o meno. Ecco, dalle indicazioni che ho ricevuto, la sensazione è che l'americano, non essendo al top, verrà dosato. E quindi a gara in corso, al pari di Kulusevski, come già era stato fatto per Milan-Juve, potrebbe rivelarsi, sicuramente si rivelerà, una buonissima opzione. Quindi McKennie dovrebbe andare in panchina e il centrocampo, se così fosse, sarebbe formato da Chiesa, che invece recuperata, sembra il titolo a botta alla caviglia, sarà regolarmente al primo minuto, Bentancur, Rabiot e Ramsey. Coppia d'attacco, ovviamente, caratterizzata da Cristiano Ronaldo e Alvaro Morata. Attenzione alle diffide, perché qualora i calciatori già diffidati dovessero ricevere un giallo, salterebbero la finale Supercoppa italiana mercoledì sera a Reggio Emilia contro il Napoli. La Juve ne ha quattro i diffidati, che sono Danilo, Rabiot, Kulusevski e Bentancur. Soprattutto su quest'ultimo l'attenzione dovrà essere totale, perché avevo letto una statistica di oltre 50 cartellini gialli rimediati da quando gioca la Juve. Un'infinità un po' troppo irruento alle volte, anche gratuitamente, perché c'è giallo e giallo. Quello tattico può essere alle volte anche speso in maniera intelligente, mentre alle volte l'uruguayano è un po' troppo ruffone. Da questo punto di vista deve ancora disciplinarsi, perché poi rischia più delle volte di compromettere il suo piano gara, ma anche quello dei suoi compagni. Ci ricordiamo tutti, per esempio, l'entrata davvero quasi scriteriata, che sarebbe potuta costargli il rosso anticipato a San Siro. E quindi mettere in serie difficoltà i propri compagni di squadra, che stanno facendo di fatti una mezza impresa contro il Mina. Quindi, attenzione di fidati in chiave mercoledì, è chiaro che i calcoli non se ne possono fare, perché la Juventus ha diversi problemi a livello di infermeria, ovviamente con il Covid, a regnare sovrano e quindi Pirlo dovrà fare di necessità virtù. Per quanto riguarda l'Inter, invece, dubbi pochissimi, nel senso che andrà in scena il classico 3-5-2, in Porta Andanovic, difesa 3 composta da Skriniar, De Vrij e Bastoni, Hakimi a tutta fascia destra, Yang a tutta fascia sinistra, centrocampo quantità e qualità con Barella, Brozovic e Vidal, ex come Antonio Conte di questa sfida, e tandem offensivo rappresentato da Lautaru e il fortissimo Lukaku. Quindi, diciamo che sulla carta sembrerebbe esserci tutti i presupposti per vivere una bella serata, una bella serata di sport, con due squadre che applicano due filosofie differenti e che provengono anche dai risultati differenti, perché l'Inter nelle ultime due è stata fermata prima per 2-1 in favore della Samp a Genova e poi per 2-2 contro la Roma di Fonseca, mentre la Juve ha inanellato per la prima volta in stagione tre vittorie consecutive in campionato, più poi anche il passaggio in quarti, faticoso per 3-2 in semifinale di Coppa Italia. Una gara che però ha fatto capire come la Juventus, nonostante le difficoltà del momento, mentalmente si assurpezzo e si affidi alla cosiddetta linea verde. Oggi non ci sarà anche Raffià, perché purtroppo ha rimediato un brutto infortuno proprio in occasione della sfida contro il Genoa, quindi in panchina pochissime soluzioni, sostanzialmente di livello 2 per Pirlo, che dovrà essere bravo a sfruttarli a dovere, ovvero Kuluseski e Meccani, che sono due giocatori che ti possono anche far ricostruire, ridisegnare l'assetto tattico durante la gara, che poco non è, giocatori duttili, eclettici, ma soprattutto di mentalità, e che stanno crescendo in maniera esponenziale. Io leggo i vostri commenti, ragazzi, sono sempre tanti, vi ringrazio per questo, ma su Kuluseski siete troppo severi. Kuluseski sta facendo un percorso di crescita, che secondo me è davvero top, considerando anche quanto sia giovane, parliamo di 20-21 anni, gente che ha le prime esperienze alla Juventus, sta comprendendo come sia tutt'altro mondo, e sta comprendendo cosa significhi giocare sotto pressione. E Kuluseski però tipicamente è la seconda punta, perché in questo sistema di gioco per me può giocare esclusivamente là. Ragazzi, farà la differenza, farà la differenza a scala progettuale, così come già la sta facendo McKennie, che ha un'intelligenza tattica rara, che ha soprattutto confidenza con il gol, e per un centrompista moderno, nel calcio moderno, questo significa tanto, per non dire tutto. Fatemi sapere, ragazzi, come state vivendo questo pre-match di Inter-Juventus, fisco inizio a 20-45 a San Siro, ditemi la vostra sulla probabile formazione che Pirlo sceglierà, ma ormai le ultime riserve sono state sciolte, e quindi un caro abbraccio e ci vediamo a fine partita, assieme qua sul mio canale YouTube, per commentare l'esito del Derby Italia.